In quel tempo Gesù chiamò sé i dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone né pane né sacco né denaro né la cintura ma di calzare sandri e di non portare due tuniche e diceva loro dovunque entrate in una casa rimanetevi finché non sarete partiti di là se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano con olio in molti infermi e li guarivano parola del signore se hanno rodati Gesù e Maria oggi il signore manda per la prima volta i suoi discepoli a proclamare ciò che hanno visto ciò che hanno udito parlare di Gesù evangelizzare significa testimoniare la nostra conoscenza di Gesù che è una conoscenza esperenziale il cristiano del cristianesimo non è la religione del libro come per i musulmani non è una dottrina ma è soprattutto la testimonianza di una persona è la persona di Gesù quella persona che noi abbiamo avuto conoscenza abbiamo avuto rapporti con lui questi rapporti di conoscenza personale perché dobbiamo parlare di Gesù e Gesù stesso che manda quindi i dodici a propria esperienza qui per la terra di Israele e devono andare con la massima povertà semplicità e devono trasmettere ciò che hanno ricevuto di Gesù e trasmettere anche la loro testimonianza di essere accompagnata da opere sopranaturali andate, proclamate e soprattutto guarite gli ammalati scacciate i demoni perché gratuitamente avete ricevuto gratuitamente i dati ci ricorda anche il Vangelo di San Matteo quando parla e quindi della questa prima missione degli apostoli quindi parlare e la loro testimonianza deve essere credibile perché deve essere accompagnata dalle opere in quel tempo Gesù chiamò a sei dodici e prese a mandagli a due a due e dava loro il potere sui spiriti impuri, sui demoni come Gesù trasmette il suo stesso potere di guarire gli ammalati e di scacciare gli spiriti le stesse loro testimonianza ecco, attraverso gli esorcismi manifesta la presenza viva in loro di Gesù quando si fa esperienza di Gesù, senti comunione con lui, Gesù è dentro di noi e tutto ciò che ha fatto Gesù lo fanno anche i propri apostoli, i propri discepoli come è successo nelle vite di tanti santi che nel nome di Gesù scacciavano i demoni l'efficacia dell'esorcismo non dipende tanto dall'unione con Gesù perché è un sacramentale l'esorcismo dipende dalla fede del penidente e dipende anche dalla santità di chi è esercita perché usando un sacramentale dipende tutto dall'unione che abbiamo raggiunto con Gesù e infatti Gesù raccomanda loro di testimoniare la sua presenza e quindi di trasmettere ciò che hanno loro ricevuto che cosa? L'amore, la carità, il perdono, la povertà per questo Gesù dirà andate e non portate con voi niente perché l'operaia è a diritto della sua mercede voi lavorate per Dio e Dio non vi farà mai mancare niente e così è successo nella storia di tanti santi ma anche nell'Antico Testamento quando il popolo lascia l'Egitto nel pieno deserto il Signore per quarant'anni li ha nutriti col pane del cielo con la manna, miracolosamente per quarant'anni così è con le quaglie e per quarant'anni i loro santi non si sono consumati tutto è stato un miracolo un miracolo che è durato quarant'anni nel deserto e così per il discepolo di Gesù andare in una casa e mangiare quello che vi sarà dato e non passare da casa a casa cioè perché voi non avete tempo da perdere dovete testimoniare e parlare a Gesù e non dovete diventare protagonisti ma il vostro fine è che le persone devono cercare la dottrina di Cristo la persona di Cristo e non voi voi siete strumenti nell'evangelizzazione ma non siete il fine dell'evangelizzazione devono cercare soprattutto l'unione con Cristo quindi con voi non portate né denaro né sacca, niente ma tutto vi sarà dato dall'alto e diceva loro dunque entrate in una casa e rimanetevi finché non sarete partiti di lì se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero andatene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi che cosa vuol dire? io di voi non voglio niente non mi avete accolto non avete accolto di Gesù allora io vi lascio tutto quello che è vostro ve lo restituisco anche la polvere non mi porto neanche la polvere di casa vostra perché non siete degni della persona perché avete rifiutato la parola di vita Gesù stesso nel Vangelo dirà alla fine del Vangelo di San Marco andate e predicate il Vangelo chi crederà e sarà battezzato sarà salvo chi non crederà non sarà salvo non si salverà perché non ha creduto nelle parole di vita eterna è già condannato perché lui stesso ha rifiutato la grazia di come diceva tante volte Gesù Santa Faustina Cavosco o Asca se una persona è Gesù misericordioso se una persona si danna sempre per colpa propria perché ha rifiutato la grazia di Gesù e partire ne procuravano che la gente si convertisse e scacciavano molti demoni ungevano con l'olio e molti infermi e guarivano in queste parole ungevano molti con l'olio e molti infermi la Chiesa ha visto il sacramento dell'unzione degli infermi insieme alla bellissima lettra di San Giacomo che parla proprio del sacramento degli infermi e quella Chiesa quindi ha continuato quest'opera di Gesù di aiutare gli ammalati gli infermi soprattutto adesso l'11 febbraio che è il giorno dell'ammalato la Chiesa e quindi da tutti i suoi soccorsi il suo aiuto sopranaturale affinché gli ammalati possano trovare il sollievo dei sacramenti la forza per saper sopportare la malattia e quindi andarono e convertire questo